Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi per questo speciale dei 6.000 iscritti vi spiego dove trovare questi due incantesimi E soprattutto entrare in quella guia ristrutturata al confine Quindi dirigetevi qui in questo posto Perché dobbiamo parlare con un maghetto con la barba pelato Kratos Dirigiamoci qua, si assomiglia moltissimo a Kratos solo che è più piccolino Quindi lui adesso ci racconterà la sua vita triste Ci dirà che gli serve una chiave, una chiave dell'Accademia Non vi preoccupate dopo questa conversazione andremo direttamente lì all'Accademia E vi spiego dove trovare questa chiave Quindi adesso io consegno la chiave dell'Accademia a questo pelato Sì Non so neanche cosa sta facendo adesso Sta prendendo la chiave Sta prendendo la chiave E poi ci darà anche la post della sapienza Quindi dirigetevi qui all'Accademia Proprio qua E guardate questo video fino alla fine perché vi potrebbe servire Perché è molto utile E quindi qua dentro vi ho detto tutto Cioè vi ho detto tutto Quindi fate questa strada Quindi intanto ragazzi Vi consiglio di iscrivervi al canale Di attivare anche la campanellina E grazie per questi 6.000 Per quelli che stanno guardando il video di Edden Ring Tutti i video di Edden Ring E quelli iscritti al canale Questo video l'avevo già fatto Quindi ho preso questa scena Perché è allo stesso posto Quindi la stessa strada Quindi buttatevi qua sotto Sui tetti Vabbè qua c'è una chiave della spada magica Se vi interessa Entrate qua dentro E sul lampadario C'è la chiave dell'Accademia Ok? Bene Poi dirigetevi qui In quest'aula Dove avete ammazzato il leone Perché adesso ci servirà anche la maschera Perché abbiamo la posa della sapienza Abbiamo la chiave E adesso abbiamo anche la maschera Quindi uccidete questo cracchio Vi tropperà così la maschera di scintipietra Di Carlos Bah Che strani nomi Ok Adesso ritorniamo alla Guglia Ristrutturata al confine E quindi toglietevi la vostra bellissima chioma Maschera Caschetto E equipaggiatevi la maschera Se la trovo Se la trovo Ho anche quella da due teste Il bisavio Questa dà anche più intelligenza Solo che toglie un po' il vigore Ma vabbè Adesso equipaggio anche la posa Dei gesti No questo Sbagliato Che ho un problema con il controllo della switch Che i tasti sono invertiti Ok dove sta Dove sta Eccolo qua Sapienza Ecco 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 Perfetto Perfetto Il sigilo dell'entrata si è aperto Molto semplice Quindi ragazzi Se questo video vi è stato utilissimo Ok questa è la strada Con la bocca aperta Quindi qui troverete i vostri incantesimi Quindi grazie a tutti per questa versione Lasciate like se il video vi è stato utilissimo Iscrivetevi con la campanellina Perché ci saranno altri tutorial Su Elden Ring Quindi ragazzi Noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao Ciao